Do il bentornato a un altro fedelissimo ormai di match, Max Fogli. Ciao Max, buona serata. Ciao Nicola e buona serata a tutti. Grazie, grazie anche a te Max per essere con noi. Allora, intanto Max tu sei mai stato a Houston, te lo chiedo così giusto per... Non sono stato a Houston ma sono stato a New York. Vabbè, quello anch'io direi vero, un po' più commerciale tra virgolette, un po' più alla portata. Vedremo, chissà se un giorno riusciremo anche noi a godere di questa cosa. Allora Max, qui vorrei coinvolgere un po' entrambi, insomma. Con te ci siamo rivisti soltanto qualche giorno fa. Vabbè, diciamo che tu hai risolto in altro modo il problema Covid, ecco, senza entrare nel dettaglio. E abbiamo parlato invece con te di Spal, come abbiamo fatto qualche giorno fa, commentando l'ultima partita, l'ultima partita che è terminata con un punto per i Biancozzurri. E dove Cuglio, tra l'altro tu eri già qui appunto a Ferrara e l'hai vista dal vivo allo stadio, giusto? Giusto. Ecco, perfetto. Max, allora intanto facciamo un po', nel tuo caso, un riassunto dell'ultima partita. Tu come hai notato, come hai valutato l'ultima Spal? Insomma, che cosa ti è sembrato, ecco, sulla base, anche a prescindere dal risultato? Allora, noi l'abbiamo vista insieme, insieme con anche Matteo, in studio. Quindi l'abbiamo guardata senza l'audio, come facciamo di solito. L'abbiamo vissuta chiacchierandocela nel mentre. Chiaramente il cambio di allenatore si vede anche un po' come svolta di dettami tattici e anche un po' come motivazione magari di alcuni calciatori che si sentivano un po' fuori dal progetto prima e che adesso possono rigiocarsi le proprie carte. Diciamo che prima della partita per un pareggio con il Pisa avremmo firmato in tanti. Poi magari guardando la partita ci si poteva aspettare qualcosa di più e poteva anche forse venire qualcosa di più se ci fosse stata un po' più di precisione. Poi è andata così e chiaramente si porta a casa lo 0-0. Sono due pareggi con Benevento e Pisa che erano comunque delle teste di serie della serie B che tutto sommato prima di giocarle in tanti avremmo firmato per due pareggi. Ecco, infatti era questa un po' la chiave. Intanto un arrivo, quello di Noirot Doria, se dovrebbe pronunciare in questo modo e poi, e qui Max, mi collego a te visto che tante volte l'abbiamo citato, il celebre SEC che alla fine conti se ne è dato al Toro, al Torino. Ecco, intanto come hai valutato queste due notizie? Allora, della prima, e sarò ripetitivo, ne ho parlato anche con Matteo per capire in realtà se fosse un acquisto più volto alla primavera o alla prima squadra. Dal momento che viene comunque dalla Francia, che è comunque ritenuto anche un calciatore talentuoso e non si è ancora ben capito se l'acquisto è volto a lanciarlo direttamente in prima squadra o se fargli fare le ossa in primavera. Quindi ho focalizzato di più un po' l'attenzione su quelli che sono i giocatori sicuramente già pronti. Meccariello e Finotto sono già arrivati, uno dal Lecce e uno dal Monza di ritorno e vedremo se si integreranno in tempi veloci. Per quanto riguarda la notizia di SEC, diciamo che era un po' nell'aria il fatto che si dovesse fare cassa con qualche giovane di talento. A dire il vero SEC era un calciatore che comunque non era sempre impiegato dall'inizio e che forse non era pronto nemmeno per essere un titolare inamovibile della Serie B. Quindi una cessione, a quanto pare si parla di 4 milioni di euro, è un qualcosa che va a gonfiare le casse della spalla e con 4 milioni si può fare un mercato veramente importante se non adesso, quest'estate, per una squadra di Serie B come la SPAL. Ricordo simpaticamente che l'allenatore l'anno precedente parlava di SEC come un calciatore che sarebbe valso anche 15 milioni. Poi sappiamo bene che arriva un'offerta da una squadra di Serie A, ne mette sul piatto 4, lo si vende immediatamente per quella che è la situazione del calcio odierno. Io adesso non so, Max, ultimamente sei spesso da noi, non so se tu frequentavi abitualmente gli stadi oppure sei mai stato uno che magari più dà poltrona per vedere le partite oppure proprio, non so come dire, un tifoso acceso da questo punto di vista? Ma diciamo che nella mia vita ho fatto entrambe le cose. Adesso chiaramente, essendo praticamente sempre a match, lo stadio lo frequento chiaramente di meno. Penso che siano veramente due modalità diverse di vivere la partita, una più analitica e l'altra più sentimentale. Quando si è allo stadio i sentimenti predominano anche su quello che si vede in campo, mentre invece quando siamo lì a commentarla cerchiamo di ragionare su quello che vediamo in maniera fredda. Sono due dinamiche diverse e volevo sottolineare quello che è stato detto, che veramente la mancanza della curva è un qualcosa che condiziona di tanto sia la prestazione della squadra, a mio avviso, che anche l'impatto della partita nella città. è una lacuna che snatura un po' quello che è il calcio.